È successo questo dramma proprio mentre si stava quasi litigando per un gol annullato a Lautaro, non si sapeva la palla era uscita o non era uscita, quindi le due squadre contro, ognuno con la sua verità e di colpo, durante la discussione, si accascia Edoardo e succede un'altra cosa, diventano una squadra sola. Ciao a tutti, bentornati alla Trepletta, io sono Tommaso Milanese, come sempre Luigi Carlando, oggi con noi Luca Bianchin e il ritorno di Fabrizio Salvio. Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, siamo lì a sinistra. No, anzi, vicino a me è il posto più... Eh, ma era qua prima. Beh, perché il maestro non c'era. Come ogni episodio, oggi andremo a parlare di tre argomenti conditi da tre rubriche e una buona fetta alla prossima ora riguarderà, come sempre, la giornata di Serie A appena conclusa. Giornata che però, purtroppo, ci ricorderemo tutti per delle immagini che nessuno di noi avrebbe voluto vedere. Mi riferisco ovviamente al malore che ha colpito Edoardo Bove al diciassettesimo minuto di Fiorentina-Inter. Il ragazzo è cosciente, parla, ha detto di star bene, addirittura ha convinto la squadra a giocare nella partita che ci sarà tra pochi giorni contro l'Empoli. Noi ovviamente stiamo registrando di lunedì pomeriggio intorno alle quattro, quindi insomma per contestualizzare le notizie che ho appena dato. Volevo partire proprio da questo. Luigi, tu eri presente allo stadio. Come hai vissuto questo episodio, questa situazione dal vivo? Ma è stata un'emozione comunque scioccante, come succede in questi casi, anche perché ovviamente non sei preparato, no? Distinto, guardi sempre al calcio come alla terra, no? Dei corpi più sani, dei corpi più giovani, migliori. Non ti aspetti che un ragazzo di 22 anni stramazzi così. E quindi è tra l'altro anche in una cornice particolare, cioè Firenze che è già stata toccata di recente dal lutto di Gio Barone e ancora prima nel 18, no? Dalla morte tragica nel sonno di Astori. Dopo le formazioni ieri sul tabellone è apparso ancora l'immagine di Davide Astori, quindi il capitano applauso anche in quella cornice e rivedere un giocatore tra l'altro arrivato da Roma. Quindi ci sono anche delle beffe quasi compiaciute del destino che poi ti balzano agli occhi, no? Maglia numero 4 di Edoardo, 4 marzo, era morto a Astori. E quindi è stata veramente scioccante. E poi tutta l'agitazione, no? E la frenesia che ti mette addosso la paura. Aveva dei giocatori che urlavano, che tiravano manate anche all'ambulanza perché volevano che i soccorsi arrivassero in fretta. Insomma, sono stati momenti veramente brutti. Però a lato di questo, se mi permetti, Tommy, vorrei fare una riflessione. Invece diciamo, non dico più costruttiva, però anche bella. E' successo questo dramma proprio mentre si stava quasi litigando per un gol annullato a Lautaro. Non si sapeva, la palla era uscita, non era uscita. Quindi le due squadre contro, ognuno con la sua verità. E di colpo, durante la discussione, si accascia Edoardo e succede un'altra cosa. Diventano una squadra sola. Quegli stessi giocatori fanno cerchio attorno a Bove. L'arbitro non è più un arbitro. E' un uomo che veramente, forse è quello che in campo ha sofferto di più di tutto. Aveva una faccia sconvolta. E come ha detto Marotta pochi minuti dopo, noi siamo una comunità. Ecco, io accanto al dramma vorrei salvare questi minuti, se vuoi, magici, in cui le due squadre, l'arbitro, tutti gli spettatori, hanno fatto comunità attorno al dolore. E vorrei che ci ricordassimo più spesso che il calcio è questo. E' una comunità e non due eserciti in conflitto. Quindi prendiamolo come un piccolo regalo di Edoardo e che ce lo ricordi, insomma, per sempre. Sì, sicuramente una delle cose positive è stata, come dice te, l'unione di tutti, la prontezza dei soccorsi. Ne parlavo prima con Luca in redazione, in effetti forse è anche un po' cambiata la percezione di questi tipi di episodi. Magari, insomma, tanti anni fa si veniva un po' sottovalutata la situazione forse, mentre adesso, no? Sì, sì, è cambiato il nostro modo di vivere queste tragedie, che poi non è una tragedia, perché per fortuna risentiremo presto Edoardo a parlare, giocare chissà. Però adesso mi colpisce molto pensare che il giorno di Renato Curi, che sostanzialmente morì in campo, ricordi sempre le fasi di Walter Sabatini, che dice alcuni pensavano che, ma io avevo capito, venendolo in campo che non l'avrei più rivisto, si continuò a giocare. Si finì la partita. Donadoni, in quel famoso episodio della Mandibola con la Stella Rossa Belgrado, si finì la partita. Adesso non ci poniamo neanche più il dubbio, grazie a Dio. Abbiamo fatto un passo avanti, verso, se vogliamo, un modo, non direi civiltà, però un modo diverso di vivere questi episodi, che anche questo è importante. Come mi ha colpito il cerchio, ne parlavamo prima, il cerchio di giocatori intorno a Edoardo, che ha richiamato ovviamente quello della dimarca nei giorni di Eriksen, e anche questo è un segno dei tempi e di presa di coscienza, perché chiaramente, se vogliamo tornare a Renato Curi negli anni 70, ci sono le foto su internet, ma c'è generalmente sempre la stessa foto di lui che esce in barella, e quella è stata poi tramandata ai postri. Adesso, ovviamente, i giocatori sanno che, in caso di piena visione, avremmo foto che vanno sui social, video che vanno sui social, magari qualche parente di Bove che non stava guardando la partita, sappiamo che mamma e papà erano lì, ma, insomma, qualche amico che scopre dai social, da un video, insomma, è un segno di civiltà anche mettersi intorno e creare uno sbarramento ai tempi moderni, e, insomma, consapevoli che alcuni usano bene certe immagini, altri ovviamente no, non si può controllare tutti, e quindi cambiano proprio i costumi anche dentro un campo di calcio. Sì, sì, sì. A me piacerebbe cercare di cogliere questa opportunità per trarre una lezione positiva, no? Mi viene a dire che forse sarebbe anche opportuno istituire un monte ora annuale, un corso di pronto soccorso nelle squadre di calcio, ma estendo forse anche nelle scuole superiori, insomma, perché ovviamente queste cose succedono anche al di fuori del calcio e non ci sono comunque i soccorsi così pronti per tutti. Sì, qualcosa c'è, qualcosa si fa sicuramente, sicuramente non è mai abbastanza, quindi assolutamente il defibrillatore dovrebbe esserci sempre, lo sappiamo. Si fanno dei costi nelle aziende, l'abbiamo fatto qui, come in tutte le aziende, però certo, nelle squadre di calcio sarebbe assolutamente più suono o meglio, insomma, non è mai abbastanza, direi. Fabrizio, te come l'hai vissuta da casa, dalla TV? Io l'ho vissuta come appunto tutti, poi devo dire che sono per agganciarmi a quello che diceva Luca, sono rimasto, ma neanche sorpreso, perché poi ce lo si può aspettare, ma sono rimasto ancora una volta negativamente colpito da certe reazioni i social, purtroppo i social sono diventati, in alcuni casi diventano un bar dove è consentito il rutto libero, diciamolo, chiaro e tondo, per cui si è letto di tutto, da perché sospendete la partita, sta fingendo, ecco, è stato fatto apposta perché hanno annullato il gol all'Inter, il casino, oppure dall'altra parte sospendono la partita perché la Marotta, l'Igge, insomma, veramente di tutto di più, tanto è vero che mi sono scorsi davanti agli occhi, ma non mi sono neanche soffermato, però resto sempre colpito dalla piazza virtuale che ancora una volta si conferma diversa, se non addirittura in contrasto con quello che per esempio sottolineava Luigi, invece l'umanità che d'improvviso è tornata tra i calciatori che spesso sono, anzi, vengono proprio definiti avversari, calciatori di due squadre diverse, in quel momento particolare in polemica tra di loro per un gol non dato all'Inter che estremizzo, tornano umani facendo cerchio intorno al collega, al compagno, all'amico a terra in quel momento. Va bene, insomma, direi che ci sentiamo tutti di dare un grandissimo abbraccio a Edoardo, ovviamente, a lui, a sua compagna, a tutta la sua famiglia con l'augurio di rivederlo, insomma, prima di tutto a casa con la famiglia sano e poi chissà, speriamo anche di rivederlo in un campo da calcio, anche perché è uno dei tanti della Fiorentina che ha iniziato questo campionato in maniera pazzesca, quindi, insomma, ci auguriamo veramente il meglio. Difficile voltare pagina, però cerchiamo di parlare anche di calcio, quello che si è giocato, Milan, Napoli, Juventus in particolare, adesso non ho fatto il menu iniziale perché volevo iniziare con questo commento su quello che è successo, però come secondo argomento adesso andremo a parlare appunto di Milan, Napoli, Juventus, Juventus che sarà a cavallo tra il secondo e il terzo, perché il terzo sarà il calcio del mercato, ovviamente allo Juventus si parla tanto sia di uscite che di entrate, a metà tra questi due argomenti invece faremo la nostra classica rubrica top e flop, che ho spostato di uno slot e ovviamente lettere, ovvero la lettura dei commenti. Milan, Napoli e Juventus, quindi Milan e Napoli hanno vinto, il Milan in particolare si ritrovava a rincorrere un po' questo gruppo, come l'hai vista Luca? Secondo te Fonseca è riuscito a trovare la quadra, adesso è la quarta partita senza sconfitta di fila, giocatori ritrovati, Renders ovviamente uno del time. Sì, sì, finisci, Renders ovviamente attira gli occhi di tutti, Musa ad esempio tu dici hai trovato un equilibrio, poi il calcio è anche bello per questo perché un giocatore che è chiaramente secondario nel piano squadra stagionale diventa quello che ti sistema un po' la squadra in questo suo ruolo, diciamo la mezzala destra, Corea Madrid era veramente un quinto di difesa senza pala con Vinicius, adesso è un po' diverso, sono curioso di capire se si andrà avanti sempre così perché poi Milan non ha così tanti giocatori all'off to stick come cambio rispetto ai tre che abbiamo visto nel weekend ed è un cambio un po' diverso perché non ha le caratteristiche né di Musa né di Renders né di Fofanà, quindi sono curioso di capire se veramente la svolta, certo che i due indizi fanno una prova, quando cominciano a essere tre comincia a essere qualcosa di più, il percorso di Fonseca è andato ad alti e bassi, riuscisse a stabilizzare, sarebbe la svolta, è chiaro che guardi questa giornata, dimenticando Bove per un attimo, guardi la classifica, dice a parte il Napoli, Milan è tornato sotto su tutto, psicologicamente può essere un vantaggio, anche se ovviamente l'Atalanta deve giocare questa sera, per noi che registriamo, anche se ovviamente Inter e Fiorentina non hanno giocato, però psicologicamente è un modo per andare avanti e arrivare alla partita di venerdì con l'Atalanta, che è una di quelle che ti cambia la stagione, perché può finire da molto bene a molto male, quindi... Anche il Milan è una partita da recuperare, no? A Bologna, quindi... Assolutamente, è un momento particolare del Milan che ha forse trovato un giocatore chiave della sua squadra, dicevano con Luigi, il giocatore più interessante al campionato, uno dei più forti, il più forte, il centrocampista più forte d'Italia, ognuno ha le sue opinioni, però dicevano rendersi a qualcosa di speciale, questo sia per il suo percorso, sia per quello che fa vedere in campo e su questo dubbi non ne abbiamo. Te come lo vedi tra tutte queste affermazioni che ha fatto Luca? Un po' più cauto, un po' più cauto perché è vero che non ha perso, ma Bratislava vale poco più di una sconfitta, cioè prendere due gol da Bratislava, quindi la difesa deve andare ancora a delle prove, è vero che con Gabbia ha un rendimento profondamente diverso, lo dicono anche i numeri, perde molto meno, però insomma anche l'Empoli che è stato un pessimo Empoli, ha avuto le sue occasioni, quindi io mi aspetto ancora più continuità e test più attendibili, cioè difficilmente a rendersi ricapiterà di fare 40 metri palla al piede senza nessuno davanti ad arrivare in porta. e quindi insomma serve, l'Atalanta sarà un buon test, anche se dico che rendersi può essere la criptonite di Gasperini, nel senso con la marcatura uomo a tutto campo che fa l'Atalanta, se scappa via e parte può trovare tanto spazio anche lui, quindi può far molto male a questa Atalanta come lo fece in percussione Teo quando andò a vincere col gol di Calabria, però ecco, io sono molto più cauto, voglio ancora vedere che il Milan dia due o tre gare consecutive di continuità. Come ne pensate i rendersi per il suo rendimento, che insomma anche l'anno scorso ha fatto vedere le belle cose sicuramente, però quest'anno insomma sembra un altro giocatore, secondo te cos'è la differenza? Può essere forse un Fofanac che lo aiuta un po' nei compiti difensivi oppure semplicemente un anno in più in Italia all'attamento? Entrambe le cose, due flash, rendersi il gol, il primo gol che ha fatto mi ha ricordato tantissimo quello che fece Kakà contro il Deportivo La Corugna in Champions, può non voler dire niente, può voler dire qualcosa. Due, la sua conduzione palla, francamente insomma mi sembra che non ce l'abbiano tanti in Italia, gioca con un'eleganza spettacolare, testa alta, la palla è incollata al piede, chiedo infatti a Luigi e Luca se secondo loro in questo momento il centrocampista più forte del campionato, secondo me più forte, diciamo meglio, perché poi forte è un aggettivo che si può voler dire tutto e niente, è troppo generico, forse il centrocampista per me è più completo, però mi interessava sapere il loro giudizio. Ma guarda, io di Rendez, insomma chi ci ha seguiti è da mesi che dico che è il miglior giocatore del campionato. La puntata scorsa mi sono ravveduto un filo davanti a Ederson e quindi ci aspetta un grandissimo duello. Sarà ordinario Ederson. Sarà un grandissimo duello Rendez ed Ederson e sono i due migliori centrocampisti del campionato. Rendez ha qualcosa di più in eleganza, come dici tu, ha la condizione della palla che i tini di Cruyff ce l'hanno nel sangue quando nascono e invece Ederson ha forse più tigna, più forte nell'interdizione, più raggio d'azione, più ampio. Si compensano però in questo momento li vedo davvero allo stesso livello sul primo gradino, quindi due giocatori migliori del campionato. Io ti faccio un paradosso, secondo me va più vicino a essere il più forte che il più completo. Tu hai abbassato il livello, diciamo che è il più forte, diciamo che è il più completo. No, perché difensivamente fa fatica in alcune situazioni, quando deve guardarsi dietro, e non parlo di Bratislava, quando deve rincorrere quella giocata per un errore di valutazione di Davide Calabria, ma parlo in generale, se vuoi un episodio, il derby lo scorso anno, ne ha sofferto sempre, quando deve andare a prendere un giocatore che si inserisce, quando deve fare certe letture, in quello secondo me è ancora dietro rispetto a tanti. Invece è forse il più bravo, sicuramente è il più elegante, forse è il più bravo con la palla. E poi la storia particolare, mi ha scritto Corriere della Sera su questo suo esordio, che poi non era proprio un esordio, è un passaggio dai dilettanti, il fatto che un giocatore così, nel 2015, giocasse nei dilettanti, andasse al supermercato a fare i turni, agli scaffali, perché papà gli diceva, no devi fare 4 ore al supermercato perché ti fa bene nella crescita. Onestamente nel 2024 non capita più, cioè non è più Bruno Conti che faceva le altre cose, poteva giocare a Besold, era veramente... un caso strano, anche un po' per regolamento, è stato fatto passare tra i dilettanti per poterlo poi passare una nuova squadra, lo svolle, però insomma le immagini di lui che svutta allo stesso modo, con una maglia arancione e una squadra dilettantistica, con i compagni che la sera facevano chissà quale lavoro, è curioso. Non ti rubo il mestiere, ma è un 8 o un 10? Lui dice che è un 8, quindi chi sono io per smettirlo? Gliel'ho chiesto, lui mi ha detto che sono un 8. Che dici Luis? Sì, sì, sì. È una mezzala. Oppure un 22 come Bellingham, cioè il 4 più l'8 più il 10. Fon Ederson accanto, Fofana, Ederson o Renders, per me il centrocampo più forte d'Italia e rivaleggia con quelli in Europa, i migliori in Europa. Hai detto 22 e mi aspettavo che dicessi forse cacà. Il gollo che ha fatto il primo, fatti i debiti, i paragoni, però... Sì, sì, certo. Era una citazione di Bellingham che diceva che una volta ha preso il 22 perché poteva giocare da 4, da 8 e da 10, quindi fece la somma e giocò col 22. Sì, sì, sì. Però insomma... Siamo altri. Però sarò sfigato io, ma a me Bellingham tutte le volte che lo vedo non è che mi fa tutta questa impressione, ragazzi. No. Sono un pazzo. Hai visto l'anno scorso o quest'anno, o entrambi? Eh, ma non lo so, nel Real... Hai perso qualche partita. Avrò perso qualche partita. Oppure mi sarei addormentato. Stai guardando la Bundesliga. Esatto. Vabbè, vabbè. Ho azzardato, dai. Un altro di Bonico Pertina, hai nominato Gabbia. I dati che menzionavi sono questi. La media dei gol subiti con Gabbia è 0,62 senza addirittura 1,7 che sono tantissimi. Quasi due gol subiti a partita. Con lui adesso al centro del progetto, possiamo dire che sarà praticamente sempre presente, almeno nei big match. Secondo voi il Milan può dare una svolta anche dal punto di vista difensivo, che è stata forse la parte più negativa finora? Io ho imparato una cosa, che puoi giocare anche con Malik Chao, e non pensavo fino a due settimane fa. Poi un giorno l'ho chiesto, insomma, nel nostro lavoro dietro le quinte. Ma avete mai provato Gabbia e Chao? Ma hanno detto sì, avrebbero giocato contro l'Udinese, quando poi Gabbia non può giocare per quell'infortunio al polpaccio. E poi hanno effettivamente giocato. Io ero convinto che fossero entrambi giocatori un po' di impostazione, un po' troppo lenti per giocare insieme contro certi attacchi. Invece hanno fatto bene insieme. Poi è chiaro, anche se trovi Vinicius e Mbappé al massimo, fan fatica. Però quello probabilmente fan fatica a tutti, che è un brutto segnale per Tomori, che comincia diciamo ad inizio stagione, può perdere il posto, rischia. Se Gabbia e Chao cominciano a giocare più spesso insieme, comincia a essere sempre più a rischio. Io credo che prima o poi una coppia titolare vada trovata, perché le ha provate tutte, letteralmente tutte e sei, e prima o poi dovrà stabilizzarsi un po'. Non è la tua preferita, direi, Gabbia e Chao? La mia, credo quella di Fonseca in questo momento. Sì, Gabbia è più uno dei due, tra Chao e Tomori. Pavlovic mi sembrava un passo dietro adesso. Tomori forse ti dà qualcosa di più nel recupero come velocità. Certo. Però ha la grande qualità, Gabbia, della concentrazione, che nella difesa del Milan non è tanta, e soprattutto una concentrazione contagiosa, cioè costringe ad essere concentrati anche gli altri. Sono le qualità dei grandi leader difensivi come Chiellini, se giochi di fianco Chiellini non ti distrae mai. E lui, credo, abbia questa qualità che è molto positiva. Non ha la personalità di Franco Baresi. Però quando entra, e per i dati che hai detto, si sente proprio perché costringe a salire gli altri al suo livello di concentrazione di ferocia. Abbiamo già parlato diversi mesi di fa, ma Fabrizio, Gabbia, gli diamo la fascia a Capitano? Magari non adesso, magari il prossimo stagione. Dico una banalità, è italiano, è milanista, è cresciuto nel Milan in un calcio sempre più pieno di stranieri, diciamo. Stavo dicendo preda, ma sembra appunto una terra di conquista. Io gliela darei la fascia di Capitano a Gabbia. Ha appena rinnovato il contratto e per quello che rappresenta anche agli occhi del tifoso, secondo me la meriterebbe. Anche perché è uno serio, insomma, francamente. Secondo me la serietà conta nella vita, nel calcio, in ogni aspetto appunto. Una domanda vi faccio a Luca e anche a Fabrizio. Su Teo, secondo me pende un po' questa domanda. Cioè Teo è meno devastante del passato, a proposito anche di fascia di Capitano, ha fatto delle prove in colori, ma anche quando gioca benino fa il compitino. È colpa sua, come dire, si è rotto anche qualcosa nei rapporti con Fonseca, i famosi ammontinamenti, non c'ha più l'entusiasmo di prima? O è un nuovo compito tattico che alla ricerca di questo equilibrio Fonseca chiede più controllo anche nelle discese in attacco? No, più la prima. Può esserci qualcosa di tattico sicuramente, ma sicuramente non è il Teo che ricordiamo, quello top, sicuramente non è particolarmente a suo agio in questo Milan. Le sue persone di riferimento sono sempre state Brahim Diaz, Paolo Maldini, Samu Castiglieco e non c'è più nessuno dei tre. Quindi è chiaro che può reinventarsi e non sono sicuro che lo faccia. Ti dico una cosa un po' forte. Gabbia Capitano può essere anche una soluzione perché io credo che ci siano possibilità, è troppo presto per dire quante, ma non basse, che il prossimo anno non ci siano più il capitano e il vicecapitano del Milan di questa stagione. Quindi ti riferisci anche a Leao? No, il capitano è Davide Calabria che deve rinnovare un contratto e in questo momento le discussioni sono chiuse perché non hanno trovato un accordo, semmai ci riproveranno ma in questo momento sono chiuse, Teo Hernandez è uno dei pezzi pregiati sul mercato, è il vicecapitano, secondo me se c'è un momento in cui un'offerta può essere interessante per tutti è questa, con un contratto 2026, lo sappiamo come va nel calcio, quando hai due anni di contratto generalmente rinnovi o vendi perché altrimenti perdi a zero e può essere nell'interesse di tutti la prossima estate cambiare. Ma sarà un'altra estate la ricerca di un terzino destro o si accontentano di Emers? Dipende anche cosa devi prendere negli altri ruoli, teoricamente il progetto è Emerson però è chiaro che è stato pagato 15 milioni, anche io penso che possano guardarsi intorno sicuramente, è una soluzione ad alto livello probabilmente temporanea, però diventa anche una questione come la Juventus di cui poi parleremo, dovevano coprire 5, 6, 7 posizioni, ne hanno coperte alcune e poi non manca il centroavanti di riserva e manca probabilmente anche un esterno perché deve giocare lui, per il Milan sarà probabilmente una questione di scelte anche in questo caso. Secondo me, riallacciandomi a Luca, non credo anch'io che non sia, per rispondere anche a Luigi e all'osservazione di Luigi, non credo che sia un problema fonseca Teo, dico anch'io una cosa un po' forte, Teo a vederlo sembra proprio imborghesito, cioè che abbia perso quello spirito, quella carica, quella voglia che aveva, io non so se è perché come qualcuno ha detto si gioca troppo e quindi proprio mentalmente a un certo punto, anche se sei un calciatore di alto livello, non ce la fai più, soprattutto perdi carica nelle partite diciamo più abbordabili, più facili sulla carta e quindi fai il compitino come diceva giustamente Luigi, oppure sia, ragazzi ci può stare, poi adesso per carità, io Teo Hernandez non è che lo conosco, ci vado a cena, ma può essere, c'è una famiglia, adesso stanno aspettando il secondo, non lo so, rivaluti, sei un professionista di altissimo livello, ma insomma c'è una scala di priorità che riconsideri nella tua vita, può essere tutto, credo invece che Emerson a fonseca piaccia, cioè piaccia un terzino, e ci rilasciamo al discorso di Teo, Teo, anche perché bisogna essere matti per devastare o dire, fate qualcosa di diverso alla famosa Teao, che quando impalla anche contro l'Empoli a un certo punto, quando hanno messo in porta Morata sullo 0-0, si è visto, cioè Leao arretra, lancia Teo in profondità che a sua volta serve nello spazio Morata, quindi voglio dire, la Teao se sta bene è un'arma tattica pazzesca. D'altra parte finisco, Emerson è il terzino più bloccato che forse volevano, che forse cercavano, infatti molto spesso, Luca lo potrà confermare Luigi, diventa praticamente il terzo centrale, più che terzino fa il terzo centrale, è forse quello che appunto volevano, poi che ce ne siano tecnicamente migliori di lui, mi sembra abbastanza acclarato. Non so se siamo, come al solito, mi viene l'ansia. No, 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 tranquillo. Volevo aggiungere un'altra domanda per non chiudere il Milan, sempre a Luca e a Fabrizio. Leao, mi è sembrato nell'ultima partita, anche se non l'ho vista bene tutta, che però si è centrato molto di più del solito, è una, come dire, un escamotage di Fonseca per mettere un lavoratore in fascia e quindi non chiedergli quel lavoro di copertura che lui non vuole fare o ci sono altre ragioni, proprio per cercare magari spazi di penetrazione visto anche che Morata torna indietro, quindi con lo spazio da davanti è vuoto, qualcuno lo deve pur riempire. A quanto so, io sono due con cause, una è questa, quindi è una scelta un po' tattica e una è anche nella testa di Leao, cioè è anche Leao che ha fatto un passo in quella direzione che non ha mai voluto fare, cambiano anche le sue dichiarazioni, io ho fatto due domande sentendo quello che ha detto e mi hanno spiegato questo, lui parla di egoismo, parola che non rientra assolutamente nel suo vocabolario, io provo quest'estate a fare una domanda nell'intervista e lui dice, no no ma a me mi interessa fare gli assist, io sono cresciuto guardando Ciavini e quindi non mi interessa fare gol, preferisco fare assist, invece adesso parla di egoismo, di cinismo, sono parole non nel suo vocabolario e il fatto che abbiamo cominciato a dirle vuol dire che qualcosa, probabilmente gliel'hanno detto così tante volte, l'hanno tenuto fuori anche per questo, lui comincia a fare delle piccole cose che mi fanno pensare che ci abbia pensato, fa quasi gol di testa, mai visto, salta al portiere, già visto però con una lucidità diversa, nella situazione giusta, al momento giusto, segna un po' di più, poi ha sempre delle sue pause, momenti a vuoto, non veniamo sicuramente nel weekend della sua miglior partita, addirittura insufficiente sulla gazzetta, qualcuno ha detto, no ma sai se lo meritava, opinioni, però sicuramente non la sua miglior partita, però qualcosa io vedo cambiato, con lui non sai mai come sarà il domani, però il suo mondo resta particolare, ma lo vedo un po' cambiato. Ah sì, forse essendo stato in panchina tanto, adesso quando entra ha voglia di incidere. Ci sta, siamo troppo d'accordo su tutto, ci vorrebbe i guidi qui a rompere, esatto, perché io sono d'accordo e secondo me gli abbiamo tutti troppo, così tanto rotto le balle sulla questione che fa pochi gol, che è poco egoista, eccetera, che lo vedo in campo nelle ultime partite peccare in qualche occasione di egoismo, è successo a Bratislava, è successo contro l'Empoli, vuole andare in porta da solo, ha il compagno accanto da servire e si interstardisce nel dribbling fino a perdere la palla. E credo anche io che un po' sia stato Fonseca, è un po' a convincerlo, ah sì, a giocare più accentrato, è un po' sia lui che appunto adesso sta cercando di più il gol per dimostrare di poter fare quel salto di qualità che tutti gli abbiamo rimproverato di non aver fatto finora. Ci prendiamo quindi la colpa ufficialmente? No, ma non solo noi giornalisti, tifosi, tutti, tutti abbiamo detto alleao, segni poco, le qualità, scompari dal campo, bla bla, e lui adesso sta provando a cambiare, se ci riuscirà lo vedremo. Avete parlato tanto di mercato, chi ha parlato di mercato non futuro ma passato è stato Conte, felice di aver sbagliato poco sul mercato, si riferisce ovviamente a Lukaku Gilmour ma soprattutto a Scott McTominay che è l'uomo in più di questo Napoli, un'altra vittoria prima a zero, un altro suo gol, ormai sono veramente tantissimi, è un giocatore che sa far tutto, mi sembra che non abbiamo mai parlato in questo podcast di McTominay in particolare. No, beh, l'abbiamo lodato qualche volta perché effettivamente l'inizio di stagione è molto positivo, non dimentichiamoci buongiorno, cioè buongiorno ha rimesso in piedi la difesa da solo e quindi la partita col Torino ha confermato ancora le buone cose, io di McTominay un po' controcorrente dicevo, è vero, ha portato tantissimo, soprattutto in zona gola affiancandosi a Lukaku, però non dimentichiamo cosa ha tolto, cioè Zelensky, perché Zelensky era quello che di fianco all'Atbot e poi costruiva, infatti a questo Napoli, la carenza di questo Napoli per adesso è la qualità nella costruzione, però ieri si è visto qualcosa di diverso e Conte sta lavorando anche a questo difetto, tiene la McTominay che gli ha risolto la partita, gol stupendo, senza caricare un gol d'attaccante pure, ma ieri più ancora delle altre volte si accentravano sia Olivera che Di Lorenzo, c'è un'azione spettacolare c'è un'azione, gli arriva la palla, uno che è di fianco all'altro gli fa il tacco all'altro e poi si sviluppa l'azione e Olivera va a concludere di testa, allora perché dico questo? Quindi sta lavorando Conte, ma perché Conte è l'unico di campionato che può lavorare così? Perché ha una settimana vuota, se avesse le coppe queste cose non le vedremmo e allora è quello da sottolineare il vantaggio di Conte, un buon mercato, le settimane di lavoro terza cosa, può chiedere a Politano di correre come nessuno in Serie A perché c'ha una settimana per recuperare, può avere l'11 più bloccato, non c'è una squadra in Serie A che gioca con la Juve ha cambiato 18 formazioni su 19, loro hanno sempre l'11 perché? Perché hanno una settimana da recuperare, ecco tutte queste cose fanno ovviamente del Napoli una candidata anche se io continuo a dire che deve crescere ancora un po' perché se l'Inter fa l'Inter come ha dimostrato anche nello scontro diretto è più forte, però il Napoli cresce, cresce, cresce. Aggiungo che se il Napoli gioca sempre con gli stessi 11 bloccati come dice Luigi è anche merito dello staff di Conte perché le squadre di Conte, loro lo sanno, è una mia fissa quella della preparazione atletica, le squadre di Conte storicamente hanno pochissimi infortuni muscolari, evidente non parlo degli infortuni traumatici, ecco, conseguenza di un intervento di un avversario, l'Inter di Conte aveva pochissimi infortuni come il Napoli di Sarri peraltro, la Juve di Motta è un dato di fatto ha tantissimi, è una muria di infortuni muscolari dall'inizio della stagione. Quindi ci può essere legato alla preparazione estiva? Certamente sei favorito dal fatto di lavorare per tutta la settimana avendo una partita appunto a settimana, cioè solo il campionato e quindi questo riduce il numero degli infortuni, ma è altrettanto vero che le squadre di Conte storicamente hanno pochissimi, io ricordo un'intervista al compianto Ventrone sulla Gazzetta dello Sport del collega Olivero in cui Ventrone raccontava di aver mutuato nel calcio i sistemi di preparazione dello sci, per cui raccontava che loro lavorano molto sulla elasticità muscolare piuttosto che sulla forza muscolare, sta benedetta forza muscolare per la quale oggi se non sei un culturista sembra che tu non possa giocare a calcio. Io ripeto sempre a chi ha la bontà di ascoltarmi che vorrei capire allora come Xavi e Eniesta siano stati due dei più grandi fuoriclasse mai visti e sembravano due malaticci dal punto di vista fisico, punto. Potete aggiungere qualcosa a questa osservazione? Una piccola cosa su McTominay che mi ha raccontato una sua passione per l'Italia insospettabile, cioè lui ha sempre detto negli anni voglio giocare in Serie A prima o poi e quando ha avuto l'occasione è venuto, questo secondo me può anche essere curioso, c'è uno scozzese a Napoli ne è un abbinamento particolare, non lo so se sarebbe venuto senza la sconfitta con il Verona, perché parlavo con un collega stamattina e mi diceva sì ma guarda che non credo che l'avrebbero preso se il Napoli non avesse perso quella partita all'inizio stagione che ha fatto scattare un po' un allarme e ha fatto dire magari 30 milioni li mettiamo perché abbiamo bisogno, questo non lo sapremo probabilmente mai, è una realtà parallela però a volte con questa del calcio una sconfitta conviene perdere e spendere 10 milioni 10 milioni insomma, guardando Colstino di Poi secondo voi quindi il Napoli ha fatto il miglior mercato di tutti, così facciamo anche un po' un gancio al prossimo argomento buongiorno le nomine sono pesanti, anche senza parlare di Lukaku che comunque non mi convince al 100%, Neres ho usato a metà, però diciamo sì è un possibile che andiamo la Fiorentina ha fatto molto bene e merita menzione e Riteghi da solo porta l'Atalanta in classifica, poi decidete voi tra queste e per chiudere l'argomento Napoli, adesso si trova anche in una posizione abbastanza comoda perché l'Atalanta è l'unica squadra che può stare attaccata ovviamente noi ripeto, stiamo registrando lunedì pomeriggio quindi non sappiamo ancora il risultato della partita con la Roma, Fiorentina e Inter ovviamente dovranno recuperare la partita presumibilmente a febbraio, Milano anche una parte meno, Lazio e Juve hanno fatto un passo un passo falso quindi adesso il Napoli si trova sempre primo e forse in una maniera un pochino più comoda che una settimana fa invece ne aveva 5 alle spalle con pochissimi punti ma tanto Conte li devasta no questo sicuramente comunque quindi è la pressione comunque ve lo fa una domanda secca a Fabrizio, a voi ovviamente ve la faccio ogni settimana praticamente quante possibilità ha il Napoli di vincere? tante dammi una percentuale arrivo a 65% è vero che se l'Inter fa l'Inter eccetera però il Napoli appunto per tutto quello che ci siamo detti una partita a settimana, Conte che è il primo anno nelle società fa sempre bene il mercato che ha fatto il Napoli è favorito, ho anch'io grosse riserve sul Lukaku, questo sì e per corroborare anche le percentuali di Fabrizio io ovviamente gliene do di meno però abbiamo parlato di Inter Fiorentina ovviamente per il dramma di Bove però in quei 17 minuti giocati tre palle sbagliate in uscita dell'Inter tre volte la Fiorentina quindi ritorniamo alla prima partita di Genova approccio distratto a Monza approccio distratto sembrava che l'Inter adesso entrato nel vivo della stagione avesse un po' messo la testa a posto ma a Firenze ancora una volta è questo che può fare forte il Napoli quindi è chiaro che se l'Inter fa l'Inter ripeto l'ha detto anche Conte dopo insomma sono superiori come ha detto il superiore Atalanta però l'Inter continua ancora insomma non avere una stabilità di concentrazione io penso che l'Inter abbia in testa la Champions eh bravo anch'io credo sì tra l'altro sta facendo molto molto bene secondo solo la livella quella finale persa col City è giustamente rimasta lì e secondo me stanno aspettando la rivincita non dico col City ma la rivincita in una finale di Champions a breve parleremo di calcio mergato anche se abbiamo già fatto qualche anticipazione nel terzo stint ma prima è ora di Top e Flop la rubrica che abbiamo spostato leggermente quest'oggi me ne ho rubato già uno Reinders insomma era un nome abbastanza ovvio non so se era di Fabrizio allora mi dispiace spero che ne hai trovato un altro sì io voglio premiare il ragazzino del Parma 17enne che ieri ha fatto un gol meraviglioso Mohamed Anas Aji ma Top è soprattutto un augurio perché possa diventarlo sul serio le premesse sembrano buone quel sangue nordafricano insomma il talento appunto è una questione di sangue secondo me è forte col clamoroso effettivamente dal Parma ammazza grandi si può chiamare così ma sì una squadra che ci sta bene in Serie A una squadra che non passa tutti gli anni in Serie A una squadra di qualità che non ha paura anche di di prendere ripartenza di prendere gola inizialmente era veramente squilibratissima partita col Milan nel bene e in altre situazioni nel male adesso un poedino più equilibrato però la strategia l'idea di fondo resta sempre la stessa facciamo giocare se abbiamo i giovani facciamoli giocare rivalutiamoli sappiamo che non potranno stare con noi per sempre poi ne prendiamo degli altri perché è bravo prende dei rischi vorrei vedere a marzo come sono in classifica perché quando è così in Italia si è abituato a pensare che prendi dei rischi però è bello che ci sia una squadra così tanti giovani Mann se ne parla tanto Mann del Prato insomma sicuramente sarà uno di quei giocatori che avrà tanta attenzione in estate è fatto un gol contro la Lazio Zucchi è bravo potere diverso agli altri mezzo al campo ci sono giocatori abbiamo perso Bernabè è un fenomeno quello lì Bonnini no no insomma farò un commentino su del Prato un giocatore che insomma in difesa tante squadre soprattutto big che cercheranno un giocatore in difesa prossima estate non lo conosco bene però conosciamo il contesto che è un contesto in cui i difensori italiani non ce ne sono molti e valgono molto per questioni di liste per le grandi squadre di valore anche estrinseco di avere un italiano credo sembra un ragazzo così dicono tutti insomma ha un futuro sicuramente se vuole se continua così lo intervistiamo a Sport Week? se me lo danno come diceva Totò se me la dai me la mangio a proposito della mozzarella a me se mi danno del Prato lo intervisto volentieri andiamo il tuo flop allora? il mio flop faccio la polemica del giorno il mio flop è contro i simulatori che toccati sul petto si stramazzano al suolo come morti portandosi le mani al volto io penso che è un costume proprio tipicamente italico e ci provano ahimè anche gli stranieri che arrivano da una cultura sportiva diversa e basta vedere qualsiasi partita non c'è bisogno di far nome ormai chiunque in un contrasto aereo in una corsa sbracciando viene toccato anche sul petto dal collo in giù stramazza al suolo portandosi le mani e la faccia basterebbe a mio giudizio squalificare puntualmente ogni domeni ogni mercoledì successivo quando è che ci sono le decisioni del giudice sportivo la settimana successiva per la partita dopo squalificare i simulatori e credo che questa brutta abitudine passerebbe subito mi chiedo perché non si faccia sono d'accordo io allargherei il VAR se tu chiami l'arbit e ti dici guarda è stato toccato alla spalla si è messo le mani sulla faccia e devi intervenire prima o poi non lo fanno più se sanno che c'è anche il VAR esatto per fortuna sappiamo abbiamo scoperto grazie a Luigi che c'è un girone infernale bravo tutti all'inferno e anche oggi è stato menzionato il libro di Luigi Luca il mio top è una grande congregazione simbolizzata da Justin Kluivert tripletta come simbolo dei giocatori X-Serie A che hanno fatto gol nel weekend penso una quantità non abituale ha segnato Kedira ha segnato Nzola ha segnato Mele ha segnato Emerson Palmieri Carnedi alla riscossa in paradiso direbbe Luigi col libro è interessante particolare perché anche fuori dall'Italia c'è vita alcune storie più particolari di altri Milos Kerketz ad esempio cresciuto al Milan forse non valorizzato abbastanza dal Milan tra tanti acquisti di qualità tra i giovani lui forse è stato valorizzato meno ha scelto andare a giocare perché pretendeva di giocare ha fatto un percorso passando alla Z Alkmar e adesso fa bene anche in contesti molto alti è un terzino sinistro di qualità al solito i top di Luca sono sempre molto esotici ricercato ricordiamolo quando vinceranno il campionato abbiamo la clip di Luca vabbè non capirò troppo però magari andranno in Champions Europa League Europa League ricordiamo squadra portoghese in mezzo al mare di cui abbiamo parlato con Francesco Pietrella in una puntata di qualche settimana fa di quale Luca ha comprato la macchina qualche giorno fa assolutamente abbiamo anche conosciuti quest'estate è perfetto il mio flop è il più grande del mondo cioè Pep Guardiola qualcuno doveva ah ma lo farei così ce l'eravamo spartiti no no questo non è vero chi avevamo trovato come alternativa dimmelo e ne parlerò no facciamo un flop in meno abbiamo trovato l'alternativa abbiamo trovato un'alternativa vabbè Guardiola è il Paris Saint Germain è vero vai a parlare del Paris Saint Germain no la classifica Guardiola lo lascia Luigi però il PSG merita perché la classifica di Champions è le hanno parlato mezz'ora ragazzi cioè io non lo voglio dire per mezz'ora e poi si sono dimenticati un secondo dopo come se l'eravamo spartiti però non ho detto nulla Totò e Peppino abbiamo rivelato il segreto che i top e flop non sono spontanei ma li discutiamo vabbè sappiamo che ci sono PSG 25esimo nella classifica di Champions onestamente è una cosa qui non eravamo preparati ho fatto curiosità non vale niente ho fatto una simulazione delle prossime partite per capire chi passerebbe chi si incrocerebbe ci sarebbe un grande rischio di avere un incrocio tra Real Madrid City o PSG cioè le tre due di queste tre rischiano di incontrarsi ai sedicesimi di finale di Champions League onestamente non avrei mai detto PSG peggio di tutti perché in questo momento sarebbe fuori fuori addirittura il nuovo sistema Champions fatto apposta per non far incontrare queste grandi subito invece come vediamo non si può prevedere tutto sì e quell'ultima giornata con tutte le partite in contemporanea è un evento di visione mi vengono in mente quegli articoli su calcio e televisione Fanto Grasso sul Corriere Vincenzo Cito da noi sarà un'esperienza incredibile vedere tutte le partite insieme di Champions League 18 direi in contemporanea insomma insomma condoglianza chi farà la regia di diretta gol perché insomma sarà complicato Luigi regito di top e flop e allora cominciamo dal flop che l'abbiamo già smascherato guardiola sesta sconfitta consecutiva roba inimmaginabile l'inizio stagione ma non è tanto la sconfitta e come regito la sconfitta e questa è stata per me anche la delusione ha sempre vinto l'abbiamo visto solo vincere dal Barcellona ha avuto qualche problema in Germania ma comunque ha vinto i suoi campionati ne ha 26 con Manchester City è la prima volta che attraversa questo pianeta nuovo che è la sconfitta e noi ci aspettavamo che lo facesse con lo stile con cui ha attraversato il pianeta della vittoria però è facile andare a stringere la mano con cavalleria quando vinci è più difficile e allora vederlo che si gratta la testa si sfregia e poi fa il numero 6 all'avversario e da Pepe non te lo aspettavi quindi questo crollo di immagine di stile è sorprendente e ci sta un momento nero dopo tanti anni anche il suo calcio probabilmente invecchiato ne abbiamo parlato anche qua in un calcio del Liverpool cioè simbolico che sia caduto anche davanti a un Liverpool così verticale lui che si ostina a stendere in orizzontale ci sta tutto però ecco questa caduta di stile mi ha sorpreso e mi è anche sinceramente un po' spiaciuto si ha raccolto la provocazione dei tifosi che stavano cantando come avrebbe fatto il suo peggiorno Mourinho molto Mourinho bravo bravo e quindi è caduto proprio e questa è stata una delusione il top invece per evocare anche l'assenza del magister Guidi il maestro Gianpaolo giustamente il magister parliamo di un altro magister no fa piacere insomma 4 punti in 2 partite l'avevamo lasciato alla tua Samp a fare il record storico di 3 partite senza gol in campionato mai successo e poi 6 sconfitte in 8 e poi licenziato grazie Luigi lo ricordo male prima col Toro male prima col Milan siamo sinceri tutti abbiamo colto con scetticismo la scelta di metterli in una squadra pericolante non sembrava l'identikit giusto fin troppo maestro lui ha se non sbaglio la mania dei ristoranti stellati vero e lì si gli piace e lì invece devi fare cucina povera come tipica quella di Salentina devi salvarti devi sporcarti le mani e invece in due partite 4 punti ma soprattutto due risultati utili ottenuti con i cambi sia con la Juve che a Venezia i cambi hanno determinato la svuota quindi è partito benissimo con umiltà con una rabbia che forse non gli attribuivamo e quindi bravo Magister nominato vediamo se questo soprannome poi c'è Rebic che quando vede la Juve segna credo che una specie di equazione farebbe 20 gol alla stagione se incontrassi sempre la Juve tra l'altro possiamo svelare questo aneddoto che ci piacciono gli aneddoti quest'estate Pantaleo Corvino ha telefonato in spiaggia a Forte di Marmia Stefano Pioli e gli ha chiesto ma se io prendessi Rebic e quindi l'idea è partita da lì ed è stata benedetta dal gol alla Juventus quindi un suggerimento anzi la benedizione di Pioli conosceva bene e quindi Pioli gli ha detto ma la storia anche oggi abbiamo fatto la clip per TikTok quindi siamo tutti contenti parleremo adesso in chiusura di mercato ma prima come solito lettere la nostra rubrica dove leggiamo i vostri commenti il primo commento che ha ricevuto più mi piace in realtà ne abbiamo già parlato quindi ve lo leggo il volo ma senza tanti commenti Tijani Renders è il miglior centrocampista della Serie A ha una qualità abbinata all'intensità di un altro livello per di più stavolta sta trovando il gol con continuità carattere che gli mancava agli anni scorsi vabbè insomma siamo tutti abbastanza d'accordo poi abbiamo ricevuto due commenti in risposta alla scorsa puntata parlavamo dei fratelli Turam ci sono altri fratelli che hanno lottato contro lo Scudetto e ne hanno trovati due i fratelli Inzaghi si sono giocati a Scudetto il 2000 giusto? giusto giusto ancora Simone contro l'Iventus magari finisce come quell'anno dice Matteo Palmisano a me sono venuti in mente i baresi e Stefano bravo dice i fratelli baresi Inter e Milan esattamente quindi bravi siete stati più bravi di noi sotto pressione noi non l'abbiamo trovati per premio è sempre lo solito una giornata è magistera a proposito non mi ricordo di rispondere a ragazzo faremo succedere qualcosa un tour della redazione qualcosina adesso organizziamo parlo con il vice direttore a Grez vediamo se mi manda col paese o succede qualcosa veramente Damian che tra l'altro commenta sempre ogni episodio ognuno l'abbraccio e io spero che il suo nome derivi dal romanzo di Herman S Damian appunto quindi questa è la mia speranza dei miei libri preferiti dice il Milan non è fuori dai giochi cosa che abbiamo detto lo scorso episodio si sono già viste rimonti in Serie A come la Lazio del 2000 sì però ricordiamo magari erano su una squadra due sole dicevamo la volta scorsa la somma dei punti da rimontare erano 52 ora sono magari diminuiti però sono sono tanti la risposta di Er Marchese io non parlo di una squadra di ma insomma questo lo dice lui scappati caso io prendo le distanze più Leo e Pulisic con i squadroni degli anni d'ora della Serie A lo dico da romanista ma quella Lazio aveva una rosa che oggi non può permettersi nemmeno il City o il Real forse il 1099 è un esempio più calzante sì perché c'era il 1099 di Zaccheroni che rimonta ah come rimonta era l'anno più o meno in epoca sette sorelle c'erano tante squadre c'era anche la Fiorentina di Amundo competitiva e il Milan rimontò a vincere onestamente contro tutte le previsioni mi ricordo la frase profetica di Galliani che disse io non so se rimonteremo e vinceremo uno scudetto ma sono sicuro che le ultime sette le vinciamo tutte infatti le vince è vero mentalità sul discorso attaccante Juventus ne parleremo a breve però si sono scatenati i commenti wowmgmt spara ossyman ti aspettiamo a settembre 2025 siamo ossyman sicuramente molto probabilmente si troverà una sistemazione fuori dalla Turchia chissà 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 sempre su Vlaovic Vlaovic non sarà un fenomeno sono il primo a criticarlo ma quelli che pensano che questo zirze sia un fenomeno per un anno discreto a Bologna dovrebbero un attimo ripensarci dice Giovanni Mattina ne parleremo ne parleremo arriviamo a Juve Marco dice anche lui commenta sui zirze ma se zirze non segna mai è un mezzo giocatore con buona tecnica un gran fisico ma gli attaccanti forti sono altri questo commento prima dalla doppietta che ha fatto nel weekend al mio disastrato Everton ha fatto due gol due gol tra l'altro ha anche propiziato la lazione del 3-0 con un passaggio bellissimo non so se l'avete visto ma è più interessante per me quello che può diventare di quello che è gliela concedo che al momento è un giocatore così però insomma gioca la palla in maniera un po' diversa dagli altri lo capiamo però lui è un po' meno facile chiudo con un paio di commenti sulla questione giubbotto di Fonseca adesso io prendo questo episodio per prendervi pelle orecchie a tutti perché tanti avete commentato guardando solo i primi 5 secondi quella clip di Instagram tutti a dire ma era una love white lo sponsor di Milan lui ce l'ha detto dovevate ascoltare solamente un pochino di più qualcuno c'è stato in effetti che li ha li ha corretti al posto mio Vince dice giubbotto no condivido la proprietà non ha capito cos'è il Milan e aggiungo anche il milanismo è la storia del Milan invece sono zan e chiudo con questa battuta molto simpatica dice quando chiede al DS un bomber ma ti danno quello sbagliato mi piaceva leggere questi sono i commenti che ho selezionato molto legante in questo weekend molto legante forse ha sentito anche lui la clip sicuramente questi erano i commenti vi invito come sempre a lasciare un commento anche in questo episodio come vedete ci piace sempre ci diverte leggervi sia con i positivi e i negativi su youtube su instagram su tiktok su facebook insomma ovunque quindi scatenatevi e vi leggeremo e risponderemo alle vostre domande ultimo argomento di oggi calcio mercato abbiamo già un pochino anticipato qualcosa siamo in chiusura partiamo con la juventus che ha tantissimi nomi in ballo soprattutto in uscita si parla di fagioli per finanziare forse un attaccante si accosta al momento al marsiglia addirittura Douglas Lewis è arrivato da poco per un investimento importante si dice che possa essere sacrificato anche Danilo a Napoli Vlaovic insomma come vedete tutti questi nomi in uscita dalla juventus quali effettivamente lasceranno Torino vado io? vai paradossalmente vedo meno Danilo perché so che ha fatto un progetto di vita per stare un anno alla juventus poi si possono cambiare però una famiglia a Torino i figli che vanno a scuola a Torino doveva essere l'ultimo anno di Torino che vada via sei mesi prima non lo so non sono così convinto è possibile sicuramente perché sta giocando poco anche se ora gioca e perché ovviamente c'è chiaramente un calo delle prestazioni netto Douglas Lewis sarebbe clamoroso ma onestamente avrebbe un senso perché o decidi che insisti allora gioca sempre ma averlo così non ha un grande senso e non mi sembra una questione di ambientamento un giocatore formato un giocatore finito non è un ragazzo non è di chetelare al Milan che capisci essere spaisato mi sembra più una questione che con Tiago Motta probabilmente non sta insieme e quindi non mi stupirebbe faccio a mente non avrei mai detto che Douglas Lewis fallissi alla juventus quello che io ho visto in premere io amo la premere secondo me lui e Turam insieme spaccavano il campionato e invece ha fallito finora ha fallito scusami come mai secondo voi sarà che non si piglia con Motta che è un allenatore molto particolare uno che gioca ad altissimi livelli in premere il campionato più intenso con più ritmo di tutti che faccia male in Italia non me lo sarei sinceramente ripeto faccio ammenda non l'avrei mai detto e invece come Luigi come commenti era possibile ovviamente possibile cessione di fagioli poteva rientrare benissimo nei flop nel senso gli ultimi tre ingressi sono stati indisponenti indisponenti per atteggiamento e ingiustificabili non basta la panchina o se pensavi di avere più minuti tu vieni anche da un'esperienza impersonale non banale tu hai qualcosa da farti perdonare devi rimontare credibilità e fiducia e ti permetti di entrare con supponenza sbagliando palloni mi ricordo contro Milan ne ha impennato uno che stava diventando un'occasione cioè è entrato veramente male e questo è inaccettabile quindi io credo che se lo mettano sul mercato c'è una logica una logica per l'attacco della Juventus invece si parla tanto di vari nomi ce ne sono due in particolare al momento Zirze anche se la ta sembra abbastanza difficile e Castro secondo voi quale sarebbe più adatto alla Juve? allora io lascio dire Fabrizio però ti dico un'altra cosa ti dico che ho il sospetto che debbano prendere tre giocatori perché davanti no in generale tre giocatori veri perché al centro della difesa un giocatore serve Bremere è troppo importante come assenza per tutta la stagione che sia Antonio Silva o un altro non lo so ma serve mi viene da pensare che come esterni un esterno che giochi destra a sinistra sia utile perché è entrato lui insomma ieri sappiamo che cosa è successo con poi il gol del Lecce davanti a lui Cambiaso non può fare 90 minuti tutte le partite e comunque dall'altra parte aveva Savona che era un giocatore che non avrebbe dovuto giocare a quel livello cominciano a essere tanti comincia a essere una combinazione un po' pesante per l'analisi di quello che è il progetto giunto lì Tiago Motta abbiamo sempre detto che hanno lavorato insieme quindi hanno preso complimenti insieme con un gruppo di lavoro molto lineare adesso che le cose van male prendono le accuse insieme ed è anche giusto perché quando prendi pochi giocatori così scegliendo poi di avere una rosa intercambiabile con qualche ragazzo che entra facendo delle scelte forti puntando sui ragazzi come alternative se poi hai dei problemi fisici che in parte possono essere anche legati all'allenatore che sicuramente è uno che in allenamento va sempre forte però questo noi non siamo lì non possiamo giudicare però sono tanti oggettivamente e sul mercato hai un paio di giocatori chiave che non fanno bene il bilancio comincia a pendere un po' sul negativo è presto c'è tempo sono in corso in Champions sono in corso in campionato ci mancherebbe altro però certo un dato mi ha fatto impressione anche nella partita di ieri togliendo l'occasione grande di Turam 0,35 5 expected goals e sono pochi sono proprio pochi se posso dire no scusami no 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 Zirkzee sarebbe troppo facile dire Zirkzee per Mota che lo conosce bene sono stati insieme a Bologna non credo che lasci lo United ma non per i due golli che ha fatto ieri ma perché credo che Amorim gli abbia trovato il ruolo giusto ieri ho visto lo United contro l'Everton giocava a trequartista accanto a Bruno Fernandes alternandosi come riferimento centrale a Rashford ma il ruolo di Zirkzee lui è il classico 9,5 come ricordavi tu il passaggio che fa per il terzo gol è proprio da trequartista puro quindi se la Juve o gli Juventini pensano di sostituire Blaovic con Zirkzee sbagliano sono due giocatori completamente diversi Castro l'ho intervistato appena per Sportwick quindi l'ho conosciuto per quello che posso dire avendolo visto di persona mi sembra uno con la personalità giusta per giocare subito nella Juve con proprio quella faccia appunto da 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 chissà quello che vuole diciamo ecco detto simpaticamente da figlio di buona donna ok quindi è uno che raccontava che appunto in campo provoca gli avversari o fa il trash talking proprio stile NBA simpaticissimo sì sì lui è forte è simpatico tecnicamente non credo che sia ancora tecnicamente diciamo come calciatore non credo che sia ancora pronto per i massimi palcoscenici sta cominciando a giocare appena adesso ha fatto appena cinque gol in Serie A però credo che sia il tipo di giocatore che a uno come Motta piacerebbe molto sicuramente in campo lui si spende tantissimo gioca per la squadra come piace a Motta e tira da tutte le posizioni tra l'altro bellissima intervista vi invito a recuperarla sul nostro canale YouTube io mi tengo la mia idea cioè che l'errore più grande che può fare Motta è ricostruire il Bologna Torino come fanno a Las Vegas che ricostruiscono Venezia e deve lavorare al futuro non in passato Rodrigo Sacchi si portò Musi e Bianchi da Parma ma per insegnare agli altri giocatori che cos'è la cultura del lavoro non per farli giocare poi giocare erano Maldini e lui sfruttò Van Basten e Gullit e Motta deve lavorare su Cup Miners che ancora una volta in tre partite consecutive non è mai avvicinato il suo livello e come diceva Luca non tirano in porta devono sfruttare di più due ali esterne forti come con Seisavildiz deve lavorare al gioco è quello che manca è quello che sta deludendo e non riguardarsi indietro e prendere un centro avanti che non ha la logica della grande squadra c'è un centro avanti che ti torna indietro secondo me va benissimo questa è la mia idea personale va benissimo Vlaovic deve lavorare per farlo rendere al meglio come deve lavorare per trovare una posizione a Cup Miners che non può essere quella di giocare in linea con le punte mai Gasperini lo farebbe giocare in linea per me va via invece l'estate per me va via l'estate incompatibile con se è questo ovviamente se va a 25 gol è un altro discorso però il giocatore più pagato del campionato anche 12 milioni in una squadra che tiene il monte in gaggi molto curato è chiaro che devi vincere le partite altrimenti non sei in linea col progetto del club questo è da fuori ovviamente dicono che Motta lo pungoli molto in allenamento molto molto anche duramente dove lo vedresti bene forse in Premier? la prima cosa che mi viene in mente è quella Premier Bayern Monaco un contesto così beh magari il Bayern no che c'è già un signorino lì davanti Harry Kane si ma li mettono insieme parlando di calcio europeo voglio concludere con un nome che non sta giocando effettivamente sta facendo anche notizia sto parlando di Donna Rumma vedrete un ritorno in Italia per il portiere? adesso è la prima volta che chiedi prima a me fai parla prima loro scusami abbiamo tirato la volata fino a qui adesso Donna Rumma Donna Rumma secondo me si è fermato tecnicamente poteva migliorare a Paris Saint Germain secondo me non è migliorato e quindi certo potrebbe tornare in Italia soprattutto perché Luis Enrique non è adesso che insomma riceve critiche per il gioco con i piedi insomma lui vuole evidentemente l'allenatore del Paris Saint Germain vuole un altro tipo di portiere e Donna Rumma a questo punto non so quale futuro abbia ancora in Francia dove lo vedreste poi? esatto in Italia dove lo vedreste poi? il mercato del portiere è complicatissimo la Juventus ha appena preso un portiere con uno stipendio molto diverso da quello di Donna Rumma a proposito di Juventus che tiene controllati gli ingaggi e ha il secondo portiere più forte il campionato contesti più bassi non lo so se Donna Rum andrebbe alla Rum alla Lazio ne resta soltanto uno ma non te la voglio neanche dire nel senso che Donna Rum all'Inter diventa un curioso caso sicuramente non andrebbe aiutare il suo rapporto già incrinato con i tifosi del Milan vabbè in realtà è un po' presto ancora per parlare di calciomercato però insomma ci piace commentare qualche nome che gira per i giornali per il nostro giornale anzi direi che è tutto per oggi come al solito vi invito a iscrivervi al canale lasciare un commento come vedete vi leggiamo sempre lasciare un piace se ci state ascoltando nelle piattaforme streaming Apple Music o Spotify vi invito invece a lasciare una valutazione con quante stelle Fabri? quante stelle? cinque bravo tu l'hai fatto? io sempre controlliamo controlliamo aspetta che mi scrivo però direi che per oggi è tutto ci vediamo il prossimo martedì come al solito ciao a tutti ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti